CEO4Life, ho partecipato a molti eventi, far parte di CEO4Life è veramente contaminarsi da un punto di vista di competenze e conoscenze per creare dei reali impatti. Non nego che già nelle due ore che ho partecipato sono nate tre nuove progettualità parlando semplicemente con il CEO di altre società, perché questa federazione di competenze di intenti è l'alchimia giusta per creare opportunità e progetti reali che producono risultati, che è la cosa più importante per eventi come questi. Sviluppo sostenibile, una tematica importante soprattutto per operatori del mondo logistico e del corriere come l'OE GLS. Per noi il sviluppo sostenibile non è soltanto mezzi green, ma è molto di più. Si tratta di capire come la digitalizzazione e l'innovazione può abilitare nuove sinergie lato sostenibilità. Sostenibilità è riduzione degli impatti della CO2, ma non è soltanto questo, anche migliorare l'efficacia operativa dei nostri servizi, informando in modo migliore il nostro cliente e permettendo maggiore flessibilità nell'esperienza del nostro cliente. Quindi la digitalizzazione così come l'innovazione abilitano tutto questo. Non possiamo più parlare di un semplice acceleratore, ma la digitalizzazione e l'innovazione sono proprio coloro che abilitano la sostenibilità. Quindi sono due tematiche stringenti, legate e che si autoalimentano.